la lunga passeggiata della croasette si stende con curva molle sul fianco del mare turchino in fondo a destra l'esterel entra nell'acqua chiude l'orizzonte con le sue cime aguzze simili a uno scenario di teatro tanto sono bizzarre e numerose a sinistra le isole sainte margherie sentono ra distese nel mare mostrano un dorso coperto di abeti lungo tutto l'ampio golfo lungo le alte montagne che circondano can la bianca folla delle villette pare dormire al sole in lontananza si vedono casette candide sparpagliate sui monti macchie simili a neve dall'alto al basso dell'oscura massa verdastra le più vicine all'acqua aprono i cancelli sulla grande passeggiata lambita dalle onde tranquille si sta bene la temperatura è mite è una tiepida giornata invernale appena sfiorata da un brivido di frescura oltre ai muri delle ville si scorgono aranzi e limoni carichi di frutti dorati alcune signore camminano lentamente per i viali seguiti da bambini che giocano col cerchio oppure chiacchierano con dei signori una giovane signora è appena uscita dal villino cevettuolo che dà sulla croasette si ferma per un momento a osservare i passanti sorride e si dirige con passo esitante verso una panchina vuota di fronte al mare si siede ansimando da stanca per quei pochi passi il viso pallido sembra quello di una morta tossisce portando alle lambra le dita sottili come per fermare quegli spasimi che la stanno consumando guarda il cielo piano di sole e di rondini le punte capricciose dell'esterel nel fondo e vicinissimo a lei il mare così azzurro placido e bello sorride di nuovo e morbora quanto sono felice eppure sa che sta per morire che non vedrà la primavera che tra un anno su quella stessa passeggiata le stesse persone che le passano davanti torneranno ancora a respirare l'aria dolce di questo mite paese con ragazzi cresciuti e il cuore sempre pieno di speranze di affetti di felicità mentre nel fondo di una bara di querza quella povera carne che ancora le rimane sarà andata in putrefazione lasciando soltanto le ossa composte nell'abito di seta che si è scelto come sudario lei non ci sarà più per gli altri continueranno tutte le cose della vita mentre per lei tutto sarà finito finito per sempre non esisterà più sorride aspira più profondamente che può coi polmoni malati i profumi che vengono dai giardini e pensa ricorda quattro anni fa l'hanno fatta sposare con un gentiluomo della normandia un giovanottone barbuto colorito dalle spalle larghe di media intelligenza e sempre sereno li avevano fidanzati per motivi di interesse che lei non conosceva avrebbe detto volentieri di no invece disse sì con una mossa del capo per non dispiacere alla mamma e al papà era nata a parisi era allegra era lieta di vivere il marito la portò nel suo castello normanno una grande costruzione di pietra circondata da alti vecchissimi alberi davanti un folto bosco di abeti chiudeva l'orizzonte a destra una radura lasciava intravedere la campagna che si stendeva tutta spoglia sino a fattorie lontane un viottolo che passava davanti al cancello portava sino alla strada maestra a tre chilometri di distanza ricorda tutto l'arrivo il primo giorno nella casa nuova e da allora la vita solitaria appena discesa dalla carrozza guardò quella vecchia dimora e disse ridendo che triste anche suo marito rise e le rispose ci si abitua vedrai io non mi annoio mai qui quella giornata trascorse tra baci e carezze e non le parve lunga ricominciarono l'indomani e insomma tutta la settimana fu consumata in momenti di tenerezza poi fu occupata dalla sistemazione del suo appartamento e così passò un mese i giorni trascorsero uno dopo l'altro in piccole e lunghe incombenze imparava valore e importanza delle inezie dell'esistenza comprese che anche il prezzo delle uova ci può interessare costano qualche centesimo in più o in meno secondo la stagione era estate andò nei campi ad assistere alla mietitura l'allegria del sole accresceva quella del suo cuore venne l'autunno suo marito cominciò ad andare a caccia usciva al mattino coi cani medore mirza lei rimaneva sola ma non si rammaricava troppo per l'assenza di henry gli voleva bene ma non ne sentiva la mancanza quando tornava a casa il suo affetto si volgeva soprattutto ai cani li custodiva con cure materne ogni sera li coccolava li chiamava con mille nomignoli teneri che non avrebbe mai rivolto al marito lui le raccontava invariabilmente come era andata la caccia indicava i luoghi dove aveva trovato le pernici si stupiva di non aver scovato la lepra in mezzo al trifoglio di joseph ledentù oppure si meravigliava sdegnato del metodo del signor le chapellier di le havre il quale arrivava al confine delle sue terre per sparare alla selvaggina stanata da lui ride parville lei rispondeva davvero non è questa la maniera ma pensava a tutt'altro arrivò l'inverno l'inverno normanno freddo e piovoso pioggia interminabili scrociavano sull'ardesia del gran tetto ad angolo eretto come una lama verso il cielo i viottoli diventavano fiumicelli fangosi la campagna una distesa di mota non suddiva altro rumore se non quello dei rovesci di pioggia né si vedeva altro movimento tranne il volo turbinoso dei corvi che s'allargava come una nuvola precipitava su un campo e subito si risollevava verso le quattro la turba di quegli uccelli andava ad appollaiarsi su grandi falgi alla sinistra del cancello e loro grida assordavano per quasi un'ora svolazzavano da un ramo all'altro sembrava che volessero lottare tra loro e gracchiavano animando col loro movimento nero i rami grigiastri lei li guardava tutte le sere col cuore serrato invasa dalla lugubre malinconia della notte che scende su luoghi deserti suonava per farsi portare un lume e tornava vicino al fuoco bruciava cataste di legna ma non riusciva a riscaldare quelle stanze immense in base dall'umidità e per tutta la giornata in qualunque posto aveva sempre freddo nel salone in sala da pranzo in camera da letto le sembrava che il freddo le fosse penetrato nelle ossa suo marito veniva solamente a mandare perché quando non andava a caccia era costretto ad occuparsi delle semine delle rature e di tutte le altre faccende della campagna entrava tutto allegro insaccherato di fango e diceva fregandosi le mani che tempo boia o anche fa piacere un bel fuoco qualche volta chiedeva oggi che mi racconti sei contenta era felice in buona salute e non voleva altro che quella vita semplice sana tranquilla verso dicembre quando arrivò la neve e soffri tanto per il gelo del castello del vecchio castello che pareva diventato ancora più gelido nei secoli come succede con gli anni all'umanità che una sera domandò al marito sente henry non credi che dovremmo mettere un calorifero asciugherebbe i muri non riesco a scaldarmi in tutta la giornata sul momento il marito rimase molto meravigliato dell'idea bizzarra di far installare un calorifero nel castello mi sarebbe sembrato più naturale da mangiare ai cani su un piatto d'argento scoppiò in una lunga risata con tutta la forza dei polmoni e ripete un calorifero qui un calorifero qui che idea insistette chiaro ti garantisco che qui si gela tu non te ne accorgi perché sei sempre in movimento ma qui dentro si gela sempre ridacchiando lui le rispose via via bisogna abituarsi a tutto e poi fa bene alla salute vedrai presto ti sentirai meglio non siamo mica parigini per dio da vivere in mezzo all'acqua calda e poi tra poco è primavera all'inizio di gennaio lei fu colpita da una grave sciagura il padre e la madre morirono in un incidente di carrozza andò a parigi per i funerali e per sei mesi la sua mente fu presa soltanto dal dolore fu ridestata dalla dolcezza delle belle giornate e fino all'autunno si lasciò vivere in un triste languore col ritorno del freddo il considerò quanto fosse precario il suo futuro chi avrebbe fatto niente che cosa poteva mai accaderle niente quali attese quali speranze potevano ravvivarle l'anima nessuna il medico le aveva detto che non avrebbe mai potuto avere figli più rigido più penetrante dell'anno precedente soffriva senza remissione quel gran freddo tendeva al fuoco le mani tremanti le fiamme ardenti quasi le bruciavano il volto ma sembrava che nella schiena le scivolassero ali di gelidi e le penetravano nella carne e nelle vesti non faceva che la brividire sembrava che in quelle stanze ci fossero infinite correnti d'aria spifferi tremendi traditori accaniti come nemici li incontrava di continuo ed essi senza pausa le soffiavano il loro gelido e perfido odio sul viso sulle mani e sul collo lei riparlò del calorifero ma il marito l'ascoltava come se avesse chiesto la luna l'impianto di un apparecchio simile a parvigli sembrava un'impresa estremamente ardua quanto la scoperta della pietra filosofale un giorno che era andato a guam per affari ne tornò portando alla moglie un grazioso scaldino di rame che ridendo aveva battezzato calorifero portatile pensava che con quello ormai il freddo non l'avrebbe più patito verso la fine di dicembre lei si rese conto che non avrebbe più potuto continuare a vivere in quel modo e una sera durante la cena domandò timidamente al marito dimmi caro perché non andiamo a passare a parigi una settimana o due prima che venga la primavera lui rimase batito a parigi a che fare no e poi no stiamo così bene qui a casa nostra certe volte ti vengono delle idee che lei sussurrò servirebbe a distrarci un pochino lui non capiva hai bisogno di distrarti con teatri feste pranzi ma lo sapevi che venendo qui certe distrazioni non te le potevi aspettare lei percepì il rimprovero nascosto in queste parole e nel tono con cui erano state dette tacque era timida remissiva senza ribellioni e senza volontà in gennaio il freddo tornò violento e poi la neve coprì la terra una sera mentre osservava la nuvola turbinante dei corvi che volteggiavano attorno agli alberi scoppiò in lacrime senza volere il marito stava entrando in quell'attimo sorpreso le chiede chi ti prende lui era contento contentissimo non aveva mai sognato una vita diversa o altri piaceri era nato in quel luogo triste verrà cresciuto stava a benone in casa sua tranquillo nel corpo e nella mente non riusciva a comprendere che si potesse desiderare qualche cambiamento o piaceri diversi non poteva capire come per certe persone sia in naturale rimanere ferme nello stesso luogo per tutte e quattro le stagioni pareva ignorare che estate autunno inverno e primavera danno a molte persone nuovi piaceri in nuovi paesi lei non seppe cosa rispondergli mi asciugò rapidamente le lacrime finalmente mormorò smarrita io io sono un po triste qui mi annoio un pochettino si spaventò di aver detto quelle parole e in fretta aggiunse e poi ho un po di freddo a queste parole lui si adirò ecco ecco la solita fissazione del riscaldamento ma se da quando abiti qui per dio non è venuto neanche un raffreddore scese la notte lei salì in camera sua dato che aveva voluto una camera separata si coricò aveva freddo persino nel letto pensava e sarà sempre così fino alla morte considerava le parole del marito come aveva potuto dirle da quando abiti qui non è venuto neanche un raffreddore allora doveva ammalarsi tossire perché lui capisse che soffriva fu preda di quella agitazione nervosa tipica dei deboli e dei timidi doveva tossire allora di certo avrebbe avuto pietà di lei avrebbe tossito l'avrebbe udita tossire gli avrebbe chiamato un medico gliel'avrebbe fatto vedere al marito certo si alzò a gambe nude scalza un'idea da bambina la fece sorridere voglio il calorifero e lo terrò tossirò tanto che alla fine si dovrà decidere a metterlo si sedette su una sedia quasi ignuda aspettò per un'ora due tremava ma raffreddore niente allora decise di usare i rimedi estremi senza far rumore scese le scale aprì la porta del giardino la terra coperta di neve sembrava morta di scatto affondò il piede nudo in quella schiuma leggera gelida una sensazione di freddo dolorosa quanto una ferita le salì fino al cuore ma egualmente allungò anche l'altra gamba e cominciò a scendere gli scalini poi andò avanti nel prato con l'intenzione di arrivare fino agli alberi camminava a piccoli passi col fiato grosso sentendosi mancare il respiro tutte le volte che infilava nella neve il piede scalzo toccò con la mano il primo abete come per convincersi di aver mantenuto l'impegno poi tornò indietro le sembrò di cadere per due o tre volte così grave era la debolezza e il suo malessere pure prima di rientrare si sedette sulla schiuma gelata e ne raccolse perfino un po' per strofinarsela sul petto poi tornò in casa e si rimise a letto dopo un'ora le sembrò di avere un formicaio dentro la gola altre formiche le correvano per tutto il corpo riuscì comunque a prendere sonno il giorno dopo tossiva e non riuscì ad alzarsi ebbe una congestione polmonare le venne il delirio e delirando chiedeva il calorifero il medico consigliò fermamente che fosse impiantato il riscaldamento nella casa riacconsentì con una ripugnanza a cui si frammischiava l'irritazione non riuscì a guarire i polmoni erano intaccati in profondità e facevano temere per la sua vita il medico disse se resta ancora qui non arriverà ai primi freddi fu mandata nella francia del sud andò a canna con un bel sole amò al mare respirò l'aria degli aranci in fiore in primavera tornò al nord ma viveva nel timore di guarire col terrore dei lunghi inverni di normandia e appena stava un pochino meglio di notte apriva la finestra col pensiero fisso delle tiepide rive del mediterraneo adesso sta per morire lo sa ed è felice apre un giornale su cui non s'era soffermata e legge il titolo prima neve a parigi rabbrividisce e sorride guarda in lontananza l'esterel che diventa rosa al tramonto guarda il gran cielo azzurro così azzurro il vasto mare azzurro così azzurro e si alza torna a casa lentamente fermandosi solo per tossire dato che si è trattenuta troppo a lungo fuori e ha preso freddo trova una lettera del marito l'apre sempre sorridendo e legge mia cara spero che tu stia bene e non rimpianga troppo il nostro bel paese da qualche giorno già era così bene che aspettiamo la neve questo tempo io l'adoro e capirai quindi che non penso affatto di accendere il tuo maledetto calorifero smette di leggere felicissima di essere riuscita a ottenere il riscaldamento la mano destra che legge la lettera ricade pian piano sulle ginocchia mentre la sinistra salza sino alla bocca per placare quella tosse testarda che le strazia al petto grazie a tutti